Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video di aggiornamento di quella che è la situazione relativa alla crisi italiana. Teniamo sotto occhio il grafico del virus, del covid, che ci sta portando all'esasperazione, che sta creando questi disagi nel nostro paese, ma in tutto il mondo ormai abbiamo visto che è purtroppo una pandemia. Abbiamo fatto un appuntamento la scorsa settimana che vi ha chiarito un po' quello che era il grafico che noi dovevamo guardare, l'unico elemento che dovevamo guardare per capire quando questa situazione sarebbe finita. Ebbene, oggi andiamo a fare un aggiornamento su questo grafico. In molti me l'avete chiesto, tantissimi amici e tutti quelli che chiaramente sono un po' preoccupati anche della situazione. Quindi ho pensato di aggiungere questo contenuto in questa particolare fase italiana proprio per dare un mio contributo a tutti nel capire che cosa sta succedendo e a che punto siamo in questo momento. Come sempre i dati non mentono mai, quindi andremo a guardare il grafico più importante di tutti in questo preciso momento ancora una volta e faremo un po' le conclusioni, cercheremo di capire se sta funzionando questa quarantena, se siamo arrivati al famoso picco del virus o ancora no. Come sempre io vi chiedo di condividere questa informazione il più che potete per dare a tutti la possibilità di guardare visivamente quello che sta accadendo e allo stesso tempo magari un po' snellire quelle che sono le proprie problematiche, quelle che sono anche un po' le proprie paure perché a volte conoscere ci limita anche le nostre paure ragazzi e ci dà anche la possibilità di stare un po' più sereni. Quindi condividete il video ragazzi come è stato fatto la scorsa settimana, che è stato il mio video più condiviso di tutti quindi io non posso che ringraziarvi chiaramente per questo, anche perché stiamo facendo un servizio chiaramente un po' per tutti quindi io lo faccio solo ed esclusivamente per dare il mio contributo da Mauro Caimi a tutta Italia per quello che è appunto l'analisi di questo momento preciso. Bene, allora andiamo a guardare dietro di me il nostro sito che come sempre vi lascio all'interno della descrizione del video se volete guardare i dati anche voi in altri momenti. Allora l'aggiornamento arriverà fra pochi minuti ragazzi perché sto registrando prima delle ore 18 in questo momento ieri abbiamo avuto il più alto tasso di morti che purtroppo insomma ragazzi oggi sarà probabilmente superato e con questo numero noi andremo al di sopra di quello che probabilmente sono i morti cinesi e quindi saremo il paese probabilmente tra pochi minuti con più defunti purtroppo di tutto il mondo in questa fase. Però ragazzi andiamo a cercare di capire senza fare diciamo video di disperazione che non serve a niente andiamo a capire il nostro grafico del trend che poi è quello, anzi ve lo ingrandisco vediamo se riesco ragazzi così riusciamo a vederlo un po' un po' meglio ok allora questo ragazzi sono i trend che è l'altro grafico che noi abbiamo guardato precedentemente abbiamo fatto il video più o meno eravamo intorno a questa giornata qui purtroppo ragazzi vedete che la pendenza del grafico non è cambiata non si è appiattita quindi io vi ricordo quello che noi stavamo cercando già da qui cioè di evitare che il grafico assumesse questo atteggiamento e di cercare di fare in modo che il grafico in questione attraverso la quarantena e insomma tutte le normative tutte quelle che incentivano la distanza sociale tra le persone facessero virare questo grafico quello che vedete esattamente in una situazione di questo tipo questo è il nostro obiettivo ragazzi non ve lo dimenticate vediamo in questo momento quindi che il grafico non ha assunto la funzione che era sperata per noi cioè quella di girare in questo modo ragazzi perché evidentemente ancora il contagio non si è fermato soprattutto in alcune regioni vedete perché altrimenti avremmo dovuto iniziare a vedere i primi esiti e i primi appiattimenti di questa curva mentre invece siamo ancora diritti però vi faccio vedere anche un'altra ipotesi che è fondamentale quello che era invece il pericolo dell'esponenziale che partendo da qua avrebbe avuto questo andamento è stato scongiurato ragazzi quindi queste politiche stanno facendo un effetto in questo momento cioè quello di aver scongiurato la fase di esponenziale di contagio del virus il virus è diventato quindi linearmente crescente non è ancora girato non siamo nella fase appunto qui che vedete in verde questa che dovrebbe essere il nostro obiettivo ma è per fortuna in trend sempre rialzista ma diritto ragazzi questo ci porta quindi a fare delle conclusioni in questo momento per questo diciamo preciso momento storico e queste conclusioni sono che queste politiche di distanziamento sociale sono utili in questo momento perché hanno evitato che il contagio del virus assumesse una funzione esponenziale e quindi in questi giorni avremmo visto esplodere i casi in tutta Italia senza nessun controllo ma non siamo ancora fuori da questa crisi quindi il distanziamento sociale sta funzionando sta apportando i suoi benefici perché abbiamo visto il grafico crescere ve lo faccio rivedere in maniera lineare vedete e non esponenziale però ragazzi ancora non si è girato non abbiamo avuto il famoso flesso cioè quello che tutti stiamo attendendo per tirare un po' un sospiro di sollievo ragazzi deve fare questo ok allora siamo tutti impegnati a cercare di raggiungere questo obiettivo che è fondamentale ragazzi fate vedere questo video a tutte le persone che ancora hanno dubbi su quello che sta succedendo e sul perché di queste normative sul perché di queste politiche fate vedere questo video fate vedere questi grafici perché si capiscono le cose molto di più guardandole che facendo mille polemiche inutili e sterili andiamo poi a vedere altri dati ragazzi che mi interessava farvi vedere che è un dato positivo l'unico dato positivo in questo momento che possiamo tenere in considerazione cioè la variazione percentuale dei contagi del virus la variazione percentuale ci dice se ci stiamo avvicinando al famoso appiattimento della curva quindi al fatto che i contagi stanno andando a scemare ragazzi lo vedete da soli allora nella prima parte è normale assistere a questa fase diciamo di campana rialzista perché è un classico atteggiamento di questi tipi di strutture e dopodiché vedete da qui in poi ragazzi ok qui eravamo in fase normale qui è iniziato il distanziamento sociale vedete in queste giornate è iniziato il distanziamento sociale e le politiche di restrizione sui viaggi guardate come il tasso di variazione dei contagi quindi quanti contagi giornalieri ci sono in base al totale cioè questo è il tasso di variazione vedete come sta decrescendo questo è un significativo decremento che ancora però non è arrivato al punto tale da dire ok stiamo tranquilli perché non è così ragazzi perché in valore assoluto il numero dei contagi è ancora molto alto però il tasso di variazione è decrescente ragazzi quindi queste politiche stanno funzionando è una questione di tempo se riusciamo a mantenere questo status quo a irrigidire leggermente queste politiche riusciremo ad avere un tasso ancora decrescente fino a quando non sarà magari non più in questo momento ragazzi vi faccio vedere il tasso di oggi è del 13% quello di ieri era del 12% comunque siamo intorno al 13% ragazzi vedete solo pochi giorni fa eravamo intorno al 20% quindi vedete come sta discendendo quindi sta andando giù questo dato ragazzi del 10 di marzo è incompleto quindi non lo guardate perché questo dato era qui sopra perché è incompleto c'è anche scritto vedete dati di Lombardia incompleti quindi il tasso di variazione del numero dei contagi è in fase decrescente ragazzi questo è fondamentale abbiamo visto quindi in questo video dove siamo in questo momento con l'emergenza coronavirus in Italia con la crisi italiana a che punto siamo? siamo a metà strada direi così abbiamo bloccato in questo momento la crescita esponenziale dei contagi il tasso di variazione giornaliero percentuale dei contagi è in diminuzione ma in valore assoluto purtroppo ancora i numeri sono troppo alti e ancora la curva famosa non si è appiattita non siamo fuori pericolo ma siamo sulla buona strada ragazzi va bene? allora io vi ho aggiornato fatemi sapere se vi è piaciuto questo video e ditemi tutto quello che pensate come state vivendo anche questa quarantena all'interno dei commenti lasciatemi un mi piace e condividete il più possibile queste informazioni per renderle chiare a tutti quelli che conoscete a tutti quelli che ne hanno bisogno Mauro Caimi io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti